Musica Giovedì 27 aprile a Riccioni, importante convention annuale per finanza e previdenza, un incontro con i tanti collaboratori dipendenti del gruppo nato a Imola e con sede principale a Imola e vuole naturalmente aumentare il fatturato clienti e soddisfazione dei clienti stessi. Presidente, è un consueto appuntamento quello di Riccione, intanto in quanti siete oggi? 160, però su 220 che sono gli eventi di rito, poi ci sono un po' di feste di mezzo, qualcuno ha dovuto coprire le esigenze della famiglia e tutto il resto, i parenti, famiglie e vacanze. Cosa significa per voi questo appuntamento? Noi ormai è un appuntamento fisso, praticamente l'azienda è nata qui, in questo hotel, nel 2010 abbiamo fatto la prima convention di finanza e previdenza, eravamo in 15 e perciò voglio immaginarsi che bella differenza oggi poter rappresentare più di 200 colleghi. Partendo da Imola, occupate ormai tutte le regioni italiane? Praticamente tutto, da Aosta fino a Pacchino, per cui abbiamo una copertura ormai abbastanza diffusa per la territoriale, abbiamo 57 agenzie sparse sul territorio tonale, chiaramente con le miglioromagne, le marche le più consistenti, diciamo le più presenti nel nostro fatturato, nel nostro futuro, nel nostro presente. Chi si rivolge a finanza e previdenza che cosa chiede e che cosa trova? Guardi, noi partiamo dal presupposto che il cliente deve essere rispettato in tutte le sue esigenze, specialmente se le esigenze sono quelle di tutelare la propria persona, la propria famiglia, i propri cari e il proprio risparmio. Tutte queste esigenze che normalmente vengono sopperite da prodotti assolutamente di grande quantità sono i nostri nemici. I nostri amici invece sono tutte quelle aziende che capiscono che non si può col cliente dare sempre e solo il vantaggio economico per l'azienda. Noi dobbiamo far capire, e stanno capendolo, visto il successo che abbiamo ottenuto, che il cliente è uno dei tre fondamenti della triade definitiva. Cominciamo a parlare del fatto che deve il cliente star bene, la compagnia avere il suo vantaggio e l'intermediario avere il suo piccolo utile. Ma non deve essere sperequativo, non può o la compagnia o l'intermediario guadagnare assolutamente sopra il risparmio del cliente. Però si dice che sia il settore assicurativo che quello finanziario sia in crisi, perché le famiglie sono sempre più povere, si assicurano di meno e non hanno risparmio. Allora è vero, nel senso globale della situazione, in effetti, sia nel ramo d'anni, dove noi, lo sa, siamo da sempre, forse per la nostra estrazione cattolica, un po' scaramantici nell'assicurare certe cose. Noi siamo veramente un terzo mondo nel confronto del ramo d'anni, per esempio, mentre, dall'altra parte, però, essendo noi italiani grandi risparmiatori, il popolo italiano è un grande risparmiatore, siamo addirittura soggetti, da compagnie estere, come grandi interessi nel campo del risparmio. E' vero, come ha detto lei, che oggi il risparmio è calato, ma è stato assopperito questo discorso l'esigenza di tutelare sempre di più. Proprio perché la famiglia non riesce più a risparmiare in maniera massiva, come faceva qualche anno fa, il risparmio che ha però accumulato nel precedente è diventato più importante. E quando diventa molto più importante, ne vanno di mezzo, chiaramente gli intermediari grandi, che non guardano l'interesse vero della piccola famiglia, ma pensano solo di produrre un prodotto, o di fare o di creare un prodotto, che abbia le caratteristiche principali, la priorità principale, quella che devono guadagnare assolutamente. Invece voi avete ancora lo spirito della famiglia, cioè voi siete quasi, anche se siete grandi, un'azienda familiare in partenza. Noi vogliamo rimanere. Il nostro obiettivo finale sarà più o meno il doppio di quello che siamo oggi, perché non può esserci un prodotto o una qualità di servizio che possa soddisfare più di un tot di intermediari. Perciò il numero di intermediari, più la quantità e il numero di intermediari, vuol dire la qualità di quello che si offre, è sempre cala, cioè è indiversamente proporzionale al numero di intermediari. Faccio un esempio, se un'autovettura viene fatta per il popolo, diciamo per la maggior parte delle cose, deve avere delle caratteristiche, tra cui un po' di conoscività, un po' di comunicità, un po' di cose. Ma la fuoriserie o la Ferrari della situazione può essere data solo ad alcune. Ecco, noi cerchiamo nel nostro piccolo di portare la Ferrari anche a chi oggi ha magari bisogno solo dell'utilitaria. E questo perciò non possiamo farlo assolutamente con grandi numeri, ma con numeri limitati. Dobbiamo fermarci a un certo punto, è questo che tutti non riescono a recepirlo, e noi invece lo sappiamo, perché veniamo da un'esperienza ormai di lunga data, sia della promozione che del settore assicurativo, di portare sul mercato questa nuova innovazione. Ci hanno dato ragione. Il mercato, i colleghi, ci stanno dando ragione, perché di colpo, da zero, siamo partiti in ritardo, a confronto a molte altre iniziative come la nostra, siamo diventati i numeri uno d'Italia. Oggi noi siamo, io sono poi, che sono imolese, sono fiero che a Imole ci sia un'iniziativa, una società che sia prima nel suo settore in Italia. Noi siamo primi in Italia, dal 2014. E oggi c'è un prodotto assicurativo finanziario adatto a ogni singola persona? Si può fare l'abito su misura? Si deve fare l'abito su misura, solo l'abito su misura può dare la soluzione al problema. Gli abiti già precostituiti sono gli abiti che normalmente, quando la compagnia li crea, o la banca li crea, o l'istituzione finanziaria li crea, per forza deve essere avere un margine. Invece con noi, le compagnie, appena noi ci incontrano, noi gli diciamo, tu per due anni, cara compagnia, vuoi lavorare con finanza e previdenza, visto che facciamo questi numeri che nessuno in Italia è capace a fare, devi per due anni non guadagnare. Lei può immaginare una società che dia ai suoi collaboratori le sue cose e dica, apertamente per due anni non guadagniamo? Un po' difficile. Ho un sarto che fa un gol e dice, per due anni non guadagno, poi il terzo vestito che ti faccio, tra tre anni, allora comincio a guadagnare. Bene, noi abbiamo ottenuto questa cosa qua. Credo che solo grazie ai risultati da noi conseguiti. Senza risultati, oggi noi abbiamo la fila di compagnie, anche le più, quelli che la gente è insospettabile, che sono venuti da noi, nel nostro bel vicolino, nel nostro cortile, a proporci di collaborare con loro, di creare prodotti con loro, di fare cose con loro, perché chi l'ha fatto oggi ha avuto risultati eclatanti. Cosa dirà oggi al gruppo dei presenti, in qualità di presidente di questo gruppo importante, perché finanza e previdenza è una dei tanti marchi e gruppo, perché adesso ci sono anche tanti giovani, poi ne parleremo. Allora, la nostra convention, di solito fatta in questo periodo, ha due scopi. Quello di celebrare i risultati che stiamo portando avanti, di promulgare le idee che abbiamo per il prossimo futuro, e per esempio una cosa che noi annunceremo oggi, durante questa nostra riunione, è quella che compreremo la sede della società, perché non ci stiamo più, noi abbiamo creato la società nel 2010, nel 2012 siamo andati nella sede nuova, che è quella di Viale d'Agostino 123 a Imola, però adesso siamo diventati stretti, cioè la crescita che abbiamo avuto è superiore alle nostre allora prerogative, quando abbiamo preso, essendo noi in affitto, non essendo proprietari dell'immobile, abbiamo deciso che non rinnoviamo il contratto, che scadrà tra poco, e allora noi vogliamo la sede nuova, e abbiamo scelto una sede nuova a Imola, perché la radicalizzazione della città non la lasceremo mai, perché ci sentiamo prima di tutto imolesi, e per cui noi continueremo a proseguire su questa. E la sede che abbiamo pensato è una sede molto grande, che ci potrà soddisfare per i prossimi vent'anni, spero quando io non ci sono più, sono già in pensione, ma gli eredi sono già pronti a prendere il mio posto, i giovani che noi stiamo crescendo, sono già pronti a prendere il mio posto sicuramente. Simone Quartieri è responsabile del progetto Young di Finanza e Previdenza, come nasce questo progetto? Questo progetto nasce circa un anno fa, nasce grazie a Finanza e Previdenza, in collaborazione con una compagnia assicurativa primaria in Europa, che è unica assicurazione. Infatti questo è un progetto in esclusiva con loro, è un progetto che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, di giovani, a che a noi piace chiamare giovani talenti, ma che siano giovani che abbiano voglia di lavorare, che siano intraprendenti, con un target che va dai 18 ai 30 anni. Pasquale Di Paola è l'amministratore di questo progetto, come nasce ce l'ha spiegato Simone, ma gestire i giovani non è facile? Gestire i giovani non è facile, ma l'organizzazione li guida in tutte le loro fasi, dal momento in cui vengono selezionati ci sono corsi di formazione che mirano a renderli dei professionisti nel settore previdenziale, assicurativo ed anche finanziario. La forza di Finanza e Previdenza Young è legata a tutor che guidano i giovani che vengono inseriti in Finanza e Previdenza Young attraverso un percorso formativo, quindi tecnico, ed anche vengono affiancati sul campo. Quindi è un percorso che passo dopo passo li forma affinché diventino degli esperti nel settore assicurativo. In questi settori spesso si parla di venditori, anche per voi è così? Guardi, diciamo che da sempre c'è sempre questa differenza tra essere consulenti e essere venditori. Alla fine io dico che bisogna essere dei buoni consulenti che significa assistere col consiglio i clienti o i potenziali clienti e nello stesso tempo proporre le loro soluzioni che siano in linea con le loro esigenze. Quindi la vendita rientra anche, perché alla fine devono firmare un contratto i clienti e devono essere preparati, essere i professionisti, coloro che si rivolgono al mercato. Ed ecco ora il video proposto in occasione della convention celebrativa di Finanza e Previdenza. Grazie per la visione di Finanza e Previdenza. Grazie per la visione! How can I try to explain When I do he turns away again It's always been the same Same old story From the moment I could talk I was ordered to listen Now there's a way And I know that I have to go away I know I have to go It's not time to make a change Just sit down, take it slowly You're still young, that's your fault There's so much you have to go through Find a girl, settle down If you want, you can marry Look at me I am old, but I'm happy All the times that I've cried Keeping all the things I knew inside It's hard, but it's harder to ignore it If they were right, I'd agree But it's them they know, not me Now there's a way And I know that I have to go away I know, I have to go 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 I know, I have to go